Oggi vi mostrerò come visualizzare la vera percentuale di stato della vostra batteria su iPhone o iPad Allora innanzitutto dobbiamo capire che cos'è la percentuale di stato della batteria Se noi andiamo nelle impostazioni dell'iPhone nella batteria e clicchiamo su Stato Ci mostrerà capacità massima con una percentuale Questo è un rapporto tra il numero massimo della capacità della vostra batteria e il valore attuale di capacità Quindi essenzialmente questa percentuale vi mostra l'attuale stato della vostra batteria rispetto a com'era nuova Il problema è che questo numero non sempre è accurato Di conseguenza ci serviremo di uno shortcut sull'applicazione Comandi Rapidi Per visualizzare il numero corretto di cicli e stato della batteria Per farlo vi basterà utilizzare il link che ho lasciato in descrizione Che vi dovrebbe portare a una pagina del genere oppure vi dovrà aprire direttamente l'applicazione Comandi Rapidi E andiamo ad aggiungere questo nuovo comando Ora per andare ad utilizzare il nostro shortcut basterà aprire le impostazioni Andare su Privacy e Sicurezza E scorrere in basso fino a trovare Analisi e Miglioramenti Qui controlliamo se la prima opzione Condividi Analisi iPhone è abilitata Quest'opzione servirà abilitata poiché dovremmo andare ad utilizzare dei dati dell'Analytics Che potrebbero non essere disponibili se questa opzione è disabilitata Bene, ora clicchiamo su Dati Analisi e qui spunteranno un sacco di file di testo Ora quello che ci interessa a noi è l'Analytics Andate a prendere uno di giorni recenti, come vedete c'è una data Qui vi spunterà un file molto grande pieno di stringhe Noi per semplificarci la vita andremo ad utilizzare lo shortcut che abbiamo scaricato Quindi andiamo sul tasto Condividi e clicchiamo Battery Stats Una volta finito il processo andrà a mostrarci i valori della nostra batteria Il primo valore che ci viene mostrato è la capacità massima della nostra batteria In questo caso 2719 mAh Mentre il secondo valore è la capacità attuale Il terzo valore è il numero di cicli che la nostra batteria ha effettuato Mentre l'ultimo valore espresso in percentuale è la capacità della nostra batteria rispetto a come era nuova Nel mio caso su questo iPhone la batteria ha una capacità del 78,3% rispetto a quando era nuova Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Se fosse stato così commentate, iscrivetevi, mettete un mi piace, condividete il video con chi volete voi Se mi volete anche seguire su Instagram il link lo trovate in descrizione Detto questo io non ho altro da aggiungere Quindi vi saluto e noi ci vediamo dall'altra parte Grazie a tutti